La reintroduzione della gratuità dei bus per gli anziani, misura avviata per la prima volta nel 2002 dal sindaco Reggi e confermata dal centro-sinistra fino al 2017, ha animato la seconda seduta del Consiglio Comunale di Piacenza dedicata all'assestamento di bilancio, che ha ottenuto voto favorevole non solo da parte della maggioranza ma anche dei civici del centro-destra, mentre Fratelli d'Italia e Lega si sono astenuti. Il provvedimento sui bus gratis è stato riproposto e difeso dalla nuova amministrazione, che ha introdotto alcune modifiche l'innalzamento della soglia d'età da 65 a 70 anni e il rilascio dell'abbonamento gratuito dietro espressa richiesta dell'interessato allo sportello comunale di via Beverora e non più con spedizione in automatico per posta agli eventi diritto. Non è piaciuto invece al centro-destra, che non lo considera percorribile in questo periodo storico e soprattutto se svincolato dal reddito, giudicandolo una promessa elettorale completamente demagogica che graverà sui più deboli. Non è una misura di equità sociale, ha rincarato la dose l'ex sindaco Patrizia Barbieri nel suo intervento, rivendicando la scelta della sua giunta di aiutare gli studenti riducendo da 257 a 150 euro l'importo dell'abbonamento annuale al bus per i minori di 27 anni. Di parere opposto, Stefano Cugini, di Alternativa per Piacenza, che considera corretto che la giunta a Tarasconi abbia portato avanti una promessa elettorale. Non solo bus per anziani, tra i temi che hanno tenuto banco, ha anche i costi per il rifacimento e l'omologazione dei parapetti e delle balaustre dello stadio Garilli. Troppi, secondo Cugini, i soldi stanziati, 838 mila euro. Una richiesta di intervento ha spiegato il sindaco che viene da lontano, aggiungendo poi che la manutenzione dello stadio è un pozzo senza fondo e che è necessario fare riflessioni con il Piacenza Calcio.